Una grande presentazione che ha visto anche la partecipazione del Ministero, del MIBAC nella sua persona, un'amicizia che continua quella consuperabile. Ma direi un'amicizia appena iniziata e che ci auguriamo continua ancora a lungo nel corso degli anni, proprio perché in questi ultimi mesi abbiamo condiviso delle bellissime esperienze in questo ambito. Abbiamo presentato nel Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, un progetto che si chiama Il Patrimonio di Tutti, Patrimonio per Tutti, che peraltro è presente proprio anche nell'home page dell'INAIL di Superabile, c'è un link dove si potrà entrare e vedere un po' questo che è il progetto che il Ministero per i beni e le attività culturali sta portando avanti in questo periodo e che è volto a far conoscere ai pubblici con esigenze specifiche le condizioni di reale accessibilità dei luoghi della cultura statali italiani e a tutti quelli che si vogliono avvicinare al patrimonio culturale italiano. Le nostre istituzioni debbono lavorare insieme per raggiungere degli obiettivi che sono appunto obiettivi comuni e che servono proprio per dare delle risposte alle richieste che la società, che si sta sempre più evolvendo anche nelle proprie specifiche esigenze, richiede al servizio pubblico. Direi che l'augurio è veramente sentito e condiviso. Grazie.